Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video post stagione, finalmente questa stagione è finita, siamo arrivati i secondi, grandissimo risultato, Champions raggiunta, ma questo non è il momento giusto per parlare di queste cose. Infatti mi raccomando se ancora non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, attivate la campanellina perché nei prossimi giorni usciranno vari video su questa stagione, quindi i voti alla squadra, considerazioni, mercato, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati. A proposito di mercato ragazzi, c'è già la prima notizia del mercato rosso-nero, Gianluigi Donnarumma ha deciso di non rinnovare con il Milan, quindi siamo ai saluti. Sostanzialmente cosa è successo? Si è arrivati al punto che Raiola chiedeva 10 milioni per il portiere e 20 milioni di commissioni. Capite che per un giocatore che è già nella squadra, che bisogna trattare il rinnovo, andare a pagare una cifra così esorbitante, che poi sarebbero stati un totale di una cosa come tra i 30 e i 40 milioni, un affare per un rinnovo, è una cosa fuori di testa. Quindi per come, a parer mio, per come è agito la società, quindi assicurarsi l'acquisto del portiere Magnan, che adesso ne andremo a parlare, e a questo punto far lasciare il Milan a Gianluigi Donnarumma per me è stata un'ottima mossa, più che altro perché veramente ragazzi noi non possiamo andare a spendere così tanto. Allora, Magnan, ho le notizie sotto mano, sono col telefono, allora l'affare complessivo è un acquisto di 15 milioni di euro per il portiere francese con un contratto di 3 milioni all'anno per 5 anni. Io voglio solo ricordare chi è questo Magnan, un portiere che io conoscevo già, che mi piaceva già sinceramente, ovviamente ragazzi non è ai livelli di Donnarumma ma comunque è un ottimo portiere a parer mio. Queste sono solo alcune statistiche sue, esempio, nessun portiere ha tenuto la porta inviolata più di lui in questa stagione, cioè 21 clean shit, cioè nessuno, ma non in Francia, in Europa, nessuno. Ha riportato lo scudetto a Lille dopo 10 anni, vabbè quest'anno appunto lui ormai ex portiere del Lille, il Lille quest'anno ha vinto lo scudetto in Francia, è stato eletto miglior portiere dell'ultima Ligue 1, ha parato il 79% dei tiri affrontati, solo Navas e Courtois nei top 5 campionati europei hanno fatto meglio di lui. Secondo gli expected goals avrebbe dovuto subire 26 gol, ne ha subiti solo 19 il Ligan e in più ha già litigato con Ibra, quindi un punto a favore per Magnan. Per chi non conoscesse questo aneddoto, praticamente Magnan era arrivato al Paris Saint Germain in una sessione di allenamento, in una sessione di tiri in porta, ha visticciato con Ibra perché Ibra continuava a calciare, continuava a segnare e a un certo punto Ibra gli ha detto sei un portiere di merda e a un certo punto in questa sessione di tiri Magnan gli ha parato un tiro, l'ha guardato e gli ha detto tu sei un attaccante di merda. Quindi già il fatto che Magnan sia sopravvissuto a una roba del genere è già tanta roba, no a parte gli scherzi. Io lo reputo un acquisto ottimo più che altro perché allora mi preoccupavano le voci intorno alla sessione di Donna Rumma per un post Donna Rumma, si parlava di portieri italiani eccetera eccetera. Il punto è che i nomi dei portieri italiani che alla fine sono sempre risolti, Cranio, Musso, che non c'era niente di fondato, che però si vociferava, a parer mio non hanno esperienza per poter affrontare una partita di Champions League, ma non perché adesso noi dobbiamo andare a fare chissà che Champions League, per carità, però un minimo, un minimo. Quindi un portiere Magnan, mi sono dimenticato di dire, classe 95, con già esperienza comunque in Francia, già esperienza comunque in Europa League, ha vinto quest'anno lo scudetto a Lille, quindi comunque con una mentalità vincente. Per me è un buonissimo acquisto, ha una cifra che a parer mio è molto buona. Tornando al discorso di Gigio, io lo so che distaccarsi dal proprio procuratore è molto difficile, però per come hai esultato domenica finita la partita con l'Atalanta, per le frasi che hai detto, io ho detto sinceramente ragazzi mi aspettavo qualcosa di più da parte sua. Invece ragazzi si vocifera addirittura che erano già uscite voci nel post partita contro l'Atalanta, e che lui stesse già salutando i propri compagni, quindi era già sicuro di andare via. Quindi, purtroppo, le bandiere rimangono e Gigio diventerà uno dei tanti, nel senso che, prendiamo con le pinze questa frase, nel senso che comunque Gigio è stato il nostro Gigio, ci ha salvato tante volte, ci ha aiutato tantissime volte, ha fatto il suo lavoro in maniera egregia. L'unica cosa è che io sinceramente mi aspettavo di più, perché non appena Raio l'ha proposto queste cifre qua, io perlomeno mi aspettavo che Gigio gli dicesse, ah oh ma tu sei pazzo, cioè io voglio rimanere al Milan, troviamo un modo e fammi fare sto rinnovo. Invece no. Però, d'altra parte, sono felice per l'acquisto che abbiamo fatto, abbiamo preso un portiere molto valido, molto, ma non per quest'ultimo anno che ha fatto, come ripeto, io lo conoscevo già a Magnan, e mi è sempre piaciuto tanto, quindi sono ottimo, sono ottimo, quindi sono ottimista sulle sue prestazioni. Oggi, che è il 25 maggio, Magnan è a Milano a fare le visite mediche, quindi entro breve, penso, diventerà un nuovo giocatore del Milan. Ovviamente la Rosa la conoscerà, la squadra la conoscerà più avanti, ovviamente perché adesso ci sono europei e vacanze di mezzo, però sono soddisfatto, mi dispiace, dentro di me è una grande tristezza per Gigio perché pensavo che in fondo, in fondo, in fondo, lui alla fine poteva restare in qualche modo, avrebbe potuto fare qualcosa per restare, io sinceramente ci speravo e ci credevo, però purtroppo ragazzi non è andata così. E l'ultima cosa ragazzi è che appunto dalla cessione di Gigio, purtroppo è a zero, però vabbè, con i soldi risparmiati e vediamo, penso e spero ci sarà qualche cessione, potremmo finalmente fare un mercato molto oculato, molto preciso e io mi aspetto un grande mercato, io vi dico la verità, mi aspetto un grande mercato, nel senso non è che voglio farmi aspettative del tipo, oh, Alan, Mbappé, quella gente lì, assolutamente no, mi aspetto un grande mercato, nel senso che se a noi piaceva Vlaovic, esempio stupido, adesso possiamo pensarci concretamente, ma anche provare a pensare a qualcuno di più di Vlaovic, tenendo a mente il risparmio che abbiamo fatto con Donnarumma, tenendo a mente qualche cessione. Ovviamente la priorità adesso, che secondo me è questione, parere personale, è questione di massimo settimane, ma per me è a giorni, potrebbe arrivare già al riscatto di tomori, cosa che deve essere fatta assolutamente. E niente ragazzi, queste fondamentalmente sono le mie considerazioni per il caso Donnarumma, mi dispiace tanto, però giusto che sia andata a finire così, perché le pretese erano veramente esagerate. E niente ragazzi, io vi ricordo che nei prossimi giorni usciranno i voti, il video con i voti della Rosa, per questa stagione, uscirà anche un best off da quando abbiamo iniziato a fare le live reaction su Twitch, fino alla fine, quindi con le mie reazioni ai gol. E niente, quindi io mi raccomando, vi invito a lasciare un mi piace a questo video, iscrivervi al canale e mi raccomando ragazzi, anche passare da Twitch, perché adesso sono finite le live reaction, ma continueremo a portare live, approfondimenti sul mercato e anche altre cose. In più l'anno prossimo vogliamo partire a bomba. E sotto ragazzi, fidatevi che inizia già a muoversi qualcosa, e mi sa che inizieremo la prossima stagione, se riapriranno gli stadi, a portare contenuti molto, molto, molto grossi. Comunque ragazzi, io vi ringrazio per la visione di questo video, vi auguro una buona giornata, e mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate voi sotto questo video. Ciao a tutti!